ciao a tutti ragazzi sono GPShark iscrivetevi al canale e lasciate like in questo video io faremo un troll a vincenzo io gli ho detto che dobbiamo fare uno ovvio normale per un video ma non facciamo uno ovvio normale facciamo uno ovvio in una mappa che c'è un glitch che ti da che ti dà le hack ti fa dare molto più danno tipo io gli colpisco in testa con l'air e faccio 268 tipo di questo ora ora andiamo nella mostra perché ridi bro dove che ridi no perché sono molto più forte di te bro non li sai tirare ma quella smette la chiusa e non si muove più non parlare non parlare il glitch di questa mappa è questo che se tu vai in faccia il muro da questa scritta code 0 e ti dà le hack poi prendendo questa immagina per esempio se ne va il colore rosa allora lui non si aspetterà di niente e piacca ok 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 ragazzi ora partiamo lo sfondo un po è che è un bottaccio brava sei troppo veloce bro ma io lui è un mostro con il mio cittino l'ho detto brava come hai trovato i tuoi coppi ti hai ucciso eh bro ho fatto tre headshot con la mitaglietta brava come hai fatto con la mitaglietta non si può fare headshot fedeltto. Sì lei va 46 ok faccio are queste brufa quello bello tu sai che non la cosa no no voglio ragazzo questo è il suo gioco aspetto di sola dentro e non solo più dove stai anche ora divendo prendere dai lo sale blu no ma colpito fai una coppia di testa ma ha fatto 132 bra la coppia di testa ma che bella hit bravo c'ha veduto c'è l'ho di conti di presetta doppio hs ragazzi bravo ma come esce l'altro fa no si è stato tutto di... si è così let's go yes oh vincenzo comunque ti arriva prima a 10 ok ok posso vincere io perché trovo ci sono due volte eppure allora stava 0 0 0 no 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 infatti non c'è tipo 5 perché passare la 5 anche va il troppo lungo sa comunque disse battaglia solo mi sedi sono un braccio ora che devo tagliare di malo ma non so bisogno di tagliardi sempre se scorsi ma ha fatto 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 per esempio quando hai fatto 200 315 è possibile fa per barattita ma poi andatevi sopra in testa farlo giuro si è preso in testa però tu mi stai a prendere non ti sto tramando niente bro si scudisse? sicura? sicurissimissimissimissimissim dai dove vuole lo sai? vengono a scambiare si ci vengono a scambiare ovviamente guardate come sicuro è che il tesciolino guardate il rispondo no 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 guardate chi ti ho coppito che coppito che ho portato? ma io ho fatto 72 bravi bravi ma sei zitto non è vero due coppie mi ha portato come hai fatto? bravi la non mi sta prenderla chiama 42 due sono usato io tu sono già io lo so io si sapeva lasciare alla codice di passare quanti soldi mi dai e lascia e dove stai no lasciato lo scario oh ti ho fatto 178 in testa no no ma c'è l'ho no dove fai possibile veramente possibile ma comunque di donna la robbie perché non è la robina ma facciamo la becina donna la roba se c'è coraggio no ma che vuoi dire una cosa ok perché ridi perché ridi bro salutati youtube sei stato trollato c'era un bug che ti faceva prendere le hack ma ma quel paese perché tu con i coppi di pompa ti avevi lasciato a mezzuno di vita con coppa di pompa salutati youtube ciao ciao ciao